ciao a tutti i miei discepoli ben ritrovati siamo in giardino questa volta insieme alle mie bombe ogni tanto è bello farle vedere ed è anche utile soprattutto torniamo come sempre parlare di costruzione nostri materiali soprattutto torniamo sull'olivastro che avete visto nell'ultimo video questo qua sono contento che molti di voi hanno apprezzato c'è un piede esagerato alcuni non hanno prestato pazienza quando ci metterò mano vedrete anche queste persone qui sbavare così però magari continueranno dire non va bene perché il mio ciclamino invece torniamo noi per quanto riguarda l'impostazione delle piante e soprattutto per quanto riguarda la questione polloni visto che stiamo parlando di olivastri visto che sono piante che sparano rami dappertutto sul tronco molto spesso anche dalla base dalla base del piede sopra le radici soprattutto quindi abbiamo tanta tanta roba da selezionare e da fare saltare quindi per tutti quelli che mi stanno chiedendo ma i polloni vanno fatti saltare o vanno invece tenuti quindi lasciamo per dare più energia alla pianta ovviamente bisogna sempre capire cosa abbiamo di fronte e qual è il nostro obiettivo e soprattutto qual è il bene per il nostro materiale per far sì che l'anno dopo o l'anno stesso faccia il matto qui ci sono alcuni casi che dobbiamo andare a sviluppare primo ovviamente ragazzi sulla pianta è un pallone di verde atomico avete già i primari impostati i polloni vanno fatti saltare non c'è motivo per il quale tenere su rami mondezza che non ci servono ok a quel punto si punta solo sulla qualità ok quindi qualità assoluta teniamo solo i primari secondari terziari tutto quello che ci serve quello che non ci serve se ne deve andare via perché ci va a sporcare le linee soprattutto ci va a togliere energia ci toglie energia ripeto tutti quei rami che invece ci servono perché semplicemente si va a trasferire su quei fittoni polloni che partono che magari la pianta interessano più rispetto ai rami che abbiamo impostato noi no soltanto belli però se la pianta non gli interessano lei caccia da sotto caccia dove cazzo vuole e quindi quelli vanno fatti saltare discorso invece opposto per quanto riguarda piante appena raccolte siete raccolto un olivastro e deve fare radici ma lasciate tutto perché serve perché serve per aiutare la pianta a sviluppare energia e per stimolare poi la radicazione sotto quindi i rami sotto polloni che partono e fittoni e anche le radici fittonanti se la pianta ancora in fase di stabilizzazione che in pericolo di vita cazzo tagliate tenete tutto perché vi servirà terzo caso la pianta radicato sta bene però ancora ci manca tanta vegetazione per andare a fare l'impostazione quindi buona cosa tenere anche lì tutto ok quarto caso abbiamo la pianta eradicata abbiamo tutti i rami quello che volete però non siamo capace di impostare di fare l'impostazione primaria quindi se non siete capaci di fare niente non siete capace non avete visione non sapete inclinare non sapete impostare i rami tenete tutto perché molto spesso quello che fate saltare in realtà va usato per fare l'impostazione primaria cioè per voi magari può essere un ramo scarto che non serve magari venite qui ve la guardano sto ramo veramente serve ok quindi attenzione se non sapete valutare tenete tutto perché a tagliare si fa sempre in tempo ok quindi attenzione cercate sempre di conservare più rami possibili se non avete un'idea di quel cazzo che bisogna fare su una pianta perché è fondamentale avere una seconda possibilità poi per carità gli olivastri comunque sia sono piante sono come gli oli cioè tirano fuori tirano fuori roba ovviamente sapete concimare se ci date giù a bomba e quindi avrete quasi sempre una seconda possibilità però attenzione non andare a dilungare troppo le tempistiche perché un ramo che tagliate oggi l'anno dopo ve lo rifà poi dopo dovrà ingrossarsi dovrà maturare quindi si perde un anno due anni ogni volta che hai fatto una cazzata la pianta non muore però magari perdete uno oppure due anni per rincorrere poi quello che deve essere fatto prima che invece avete fatto saltare ok quindi regola 1 ragazzi se non capita niente state fermi lasciate giusto allungare e fate magari qualche potatura giusto per tenere un po di silhouette per non allontanarsi troppo con la vegetazione dal tronco ok regola 2 prima di potare qualsiasi cosa impostare i rami per poi dopo andare ad accorciare ad allungare in base a quello che ci serve per quanto riguarda lunghezza stile design e triangolarità terzo quarto decimo punto lasciate i rami sotto lunghi che lasciate i rami sotto i lunghi perché vi servono poi dopo perché si devono ingrossare poi vi servono per dare triangolarità quindi prima tagliate quelli sopra se non sapete bene come fare quelli sopra bene o male devono essere più corti ok i problemi non ne avrete ok ciao a tutti fate i bravi date sul sito claudio bonsai.com questo mese c'è ancora il video gratuito in omaggio che è dal valore di 49 e 90 e quindi andate sul sito fate l'acquisto e prendetevi il video gratis così imparate anche impostare ed è fondamentale per fare tutte quelle manovre che dopo devono venire ok perché se no iniziate a potare mettete il filo impostate i rami impostate male e l'anno dopo bisogna ricominciare da capo ed è un casino che hai lasciato mi piace condividete attivate la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video ok se avete bisogno d'aiuto veloce c'è il servizio masterclass in abbonamento così vi beccate le dirette e in più vi rispondo anche più velocemente su whatsapp perché state diventando veramente tanti ok ciao a tutti fate i bravi